Sono quattro i driver già qualificati, Francesco Tufano, Gennaro Amitrano, Marco Stefani e Santo Mollo, due quelli che sortiranno dalle cinque manche della semifinale di questa sera. Ai sei si aggiungeranno due wildcard, ancora da definire, e Antonio Di Nardo e Roberto Vecchione, primo e secondo della classifica 2019. Grande attesa per grandi ospiti, nomi nuovi e leggende delle ridini lunghe che si sfideranno all'insegna dell'agonismo. Questi i magnifici dieci della serata, Crescenzo Maione, uno dei giovani emergenti del trotto tricolore, Edoardo Baldi, brillante esponente della dinastia, Alessandro Gocciadoro, esponente di una egemonia ben lungi dal tramontare, Federico Esposito, uno dei driver più continui dell'ultimo decennio, Cesare Ferranti, Antonio Esposito, una famiglia storica alle spalle, Daniele Cuglini, Enrico Bellei, vincitore di 23 Scudetti, Andrea Farolfi, dopo le tante partecipazioni, è alla caccia della loro finale, Massimiliano Castaldo, uno dei beniamini di San Siro.